Musica Te spettatori ben ritrovati con l'informazione di Teri Diogeno. E' sempre più difficoltà per il pagamento degli stipendi e dipendenti della provincia di Crotone e della società. Gestione e servizi, sentiamo. Dovevano incassare lo stipendio lo scorso 27 di gennaio e oggi, 6 febbraio, ancora non sono stati pagati. Parliamo dei dipendenti della provincia e ovviamente parliamo anche della gestione dei servizi. Nel 80 dipendenti della gestione dei servizi, quindi non ci sono soldi in cassa. Questa è la motivazione per cui non hanno avuto lo stipendio e non l'avranno, difficilmente riusciranno ad averlo anche nelle prossime settimane. Perché? Perché c'è una situazione drammatica per quanto riguarda i conti. Non c'è il bilancio, ma non è solo un problema di bilancio per pagarsi lo stipendio. Allora cerchiamo di capirlo perché è una situazione molto complessa e molto delicata. Negli anni la provincia non ha fatto bilanci tenendo conto delle spese correnti e delle entrate in conto capitale. Come si fa nella famiglia? Mi entrano questi soldi ed escono questi soldi. Ha dovuto fare ricorso, proprio perché erano diminuite le entrate dello Stato, i soldi che lo Stato manda, quelli della regione. Ha dovuto fare riferimento all'anticipazione dei casi. Si faceva anticipare i soldi per le attività, per pagare gli stipendi per le altre attività, dalla banca che fa da tesoreria. In questo caso dalla Banca Nazionale del Lavoro. Diciamo che il conto corrente della provincia è stato sempre in rosso. E' stato sempre sforato di 8 milioni. Su questi 8 milioni si pagano gli interessi. Secondo quanto è stato possibile apprendere, negli ultimi tre anni la provincia ha maturato un milione di interessi da pagare alla BNL. Quindi non solo non c'erano le entrate, ma si faceva l'anticipazione di cassa e gli interessi da pagare aumentavano le spese. Poi i soldi che venivano mandati, un'altra questione, i soldi che arrivavano finalizzati ai progetti. Facciamo l'esempio. Quelle dal Ministero dell'Interno, destinate ai centri sparri, quelle che fanno l'accoglienza per gli extracomunitari. Questi soldi arrivati con uno scopo preciso sono stati destinati al pagamento degli stipendi o altre attività. E quindi ci sono stati altri debiti. Oggi che la provincia entra in crisi i soldi non ci sono più, la banca non ha più la disponibilità di fare anticipazione di cassa, a meno che non si azzera la somma che è stata fatta, gli 8 milioni di euro di debiti che sono stati già fatti. E allora scoppia la rivolta a dicembre, prima di Natale, scoppia la rivolta. Allora il Presidente Vallone, subentrato da un paio di mesi, eletto da un paio di mesi, cerca di capire la situazione e che cosa fa? Decide di pagare gli stipendi, fa incontri in prefettura, convince la banca a dare questi soldi e si impegna ad uscire dalla situazione di anticipazione di cassa entro il settembre del 2015. Cioè pagare i debiti che ha con la banca entro il settembre del 2015. Lo fa pensando che deve avere soldi dalla Regione, che deve avere soldi dal Governo, da altri debitori. Bene, nel frattempo, che cosa succede? I centri SPAR, facciamo questo esempio, perché gli altri creditori, gli imprenditori, non stanno più a guardare. Vanno in tribunale e chiedono il pagamento delle somme. Chiedono il pagamento delle somme. Per cui, quando la Regione paga, come è successo in questi giorni, da una parte delle somme che si era impegnata a dare per fare rientrare dal debito, dall'anticipazione di cassa la provincia, una parte di questi soldi non vengono utilizzati per il debito. Devono essere dati ai fondi SPAR perché i fondi che il Governo nazionale aveva dato a questi sono stati impegnati per altri. Insomma, si entra in un turbine di situazione dalla quale non si vede una via di uscita. Perché adesso la provincia non ha la disponibilità per pagare i dipendenti. I dipendenti stanno per entrare sul piede di guerra perché se non hanno i soldi per comprare il pane, i dipendenti ha i propri figli, il latte, le cose essenziali, entrano in guerra. Entrano in guerra anche quelle della gestione dei servizi, per i quali non è prevista nemmeno la cassa integrazione. Si aspetta una legge nazionale che dovrebbe consentire a tutte le società dei servizi nazionali al servizio degli enti pubblici di utilizzare la cassa integrazione. Per il momento questa possibilità non c'è. E mi riferiscono che mentre c'è la gente non si paga, che non si capisce che finaferanno i lavoratori, vengono aumentate le ore di lavoro per gli autisti della gestione dei servizi. Che significa che sulla carta diviene aumentato anche lo stipendio a fronte del fatto che non ci sono soldi. Insomma, è una situazione a dir poco drammatica e nei prossimi giorni è destinata ad esplodere. Politica locale, ipotesi di rimpasso nella giunta comunale di Crutone, si sosseguono gli incontri, ne parliamo con Giancarlo Devona, capogruppo in seno al Consiglio Comunale del Partito Democratico. Giancarlo Devona, capogruppo in Consiglio Comunale del Partito Democratico, ma soprattutto punto di riferimento di un'area politica all'interno del Partito Democratico, l'area devoniana. Così l'hanno definita. Prima vi eravate definiti oliveriana, adesso devoniana. L'area devoniana sta ponendo una serie di questioni all'amministrazione comunale, al sindaco, al Partito Democratico, una serie di questioni sul futuro dell'amministrazione comunale. A che punto è la vicenda del Consiglio Comunale? L'avvertenza che si è aperta col sindaco e con l'amministrazione. Stiamo facendo una serie di riunioni come gruppo del Partito Democratico, allargato anche al segretario cittadino Contarino, nelle quali stiamo discutendo quale linee portare avanti, non solo per quanto riguarda l'assetto amministrativo, cioè sia Giuntale che i prossimi consigli comunali, che devono tenersi con una maggioranza compatta, precisa, in prima convocazione, ma anche per quanto riguarda l'assetto del personale, dei dirigenti. Voi chiedete per dirla, perché lei sta parlando del politichese, cerco io di farlo capire a chi ci ascolta. Cioè voi state ponendo, allora noi vogliamo che questa amministrazione cambi passo, e questo è il problema che ponete principalmente, che cambi anche il rapporto che c'è tra la gente e l'amministrazione. Questo è l'obiettivo, vero? Sì, è vero. E allora per fare questo bisogna fare alcune scelte. Prima di tutto bisogna fare un programma, tre, quattro punti, perché manca poco più di un anno ormai al voto. Questo programma lo affidiamo ad una giunta snella ed autorevole, questo programma. Però questa giunta da solo non basta. Allora bisogna mettere mano anche ai dirigenti. Se non si possono toccare si fanno ruotare, perché alcuni dirigenti si sono fossilizzati. La nuova legge nazionale, la nuova legge che stanno facendo, è quella che sta facendo Renzi, è quella di ogni due o tre anni far ruotare i dirigenti. Per non creer così non si creano stalli che durano 30-40 anni. Perché lì poi il dirigente, come dire, si fossilizza, non ha più, la diciamo così, no? Non ha più la verve, non ha più la voglia di fare le cose. Se sta 40 anni, diciamola così. È così. Diciamola così. Diciamo così, ma diciamo che non è una cosa nostra. È una cosa che comunque è a livello nazionale. Noi la stiamo portando a livello locale, perché siamo convinti di questa cosa. Siamo convinti di che se anche, non solo all'interno della politica, ma se all'interno della pubblica amministrazione si fanno dei cambi, forse anche il pubblico, anche il personale, si sente più coinvolto nelle decisioni. Cioè ha stimoli diversi, perché vuole far vedere quanto vale, anche nella nuova carica, no? Guardi, secondo me, se si fa questo giusto, questa giusta combinazione tra nuova... non stiamo parlando nè dell'impasto, anche perché secondo me si può anche essere che i punti che noi diciamo che portiamo avanti possono essere eseguiti dagli esseri che ci sono attualmente. Quindi non è detto che forse bisogna cambiare qualcosa. Però, diciamo, se tutti insieme si pensa al bene della città, secondo me, uniti si riesce. Uniti si raggiunge anche un altro obiettivo. quando si va a trattare con Mario Oliverio, ebbè, un fatto è andare a gruppi. Un fatto è se il Partito Democratico e l'amministrazione comunale di Crotone vanno uniti per raggiungere l'obiettivo di avere riconoscimenti da parte della regione. Ma l'unità non è solo la Crotone, la città di Crotone. Penso che l'unità deve essere sia il Crotone che il territorio. Insieme, quindi, insieme al Partito Democratico provinciale, si deve provare a cercare di essere una cosa unica per far sì che nella provincia di Crotone arrivi il più possibile. Queste cose le avete detto all'amministrazione, le avete detto a tutti. Abbiamo detto anche al Presidente Oliverio. Che hanno detto Oliverio e che ha detto Vallone? Credo che le riunioni che stiamo facendo con i gruppi sono fino a questa, cercare una reciproca fiducia, la stiamo chiamando, sia nostra che loro, per arrivare agli obiettivi, il porto, il riaporto e tutte le cose. Non è una questione fondamentale di questo territorio. I tempi sono anche importanti. Io credo che in questo mese di febbraio si chiuderanno molte cose. E ancora politica con il punto e grillo. Punto e grillo. Con l'avvocato grillo oggi parliamo di due cose. Della giunta regionale si è votato il 23 di novembre, in Grecia si è votato domenica, martedì, governo completo. Hanno giurato, sono già all'opera, discutibile quello che sta facendo, però il governo è all'opera dopo due giorni. In Calabria, ancora non abbiamo il governo regionale. Oliverio ha fatto uno sforzo nelle scorse settimane e ha nominato quattro assessori. Uno delle quali, l'ex ministro Lanzetti, ha detto non ci voglio stare. Perché? Perché c'è Nino De Gaetano, per il quale la questura di Reggio Calabria ha chiesto, la squadra mobile di Reggio Calabria ha chiesto l'arresto. Aveva chiesto l'arresto. E quindi la Lanzetti dice non ci voglio stare. Per cui, ha nominato quattro, diventano tre, con tutta questa discussione che c'è in atto. L'altra questione con cui parliamo con Grillo è il Partito Democratico di Crotone. E Grillo, il Partito Democratico di Crotone non è pervenuto. È assente. Non c'è più. Partendo dallo Stato in cui versa il Presidente della Giunta regionale, vè da dire con una certa serietà e non superficialità che evidentemente il Partito è formato da più animo, diciamo, da più sensibilità. ragion per cui di fronte a tutte queste pressioni e di fronte anche alla convinzione di dovere nominare assessori personaggi esterni piuttosto che componenti del Consiglio regionale, è evidente che Oliverio è sotto una grande spinta riflessiva ed emotiva. perché io ritengo conoscendo Oliverio che sia perfettamente consapevole della situazione comatosa in cui versa la Regione Calabria e quindi non vorrebbe mancare l'appuntamento dal momento in cui ha detto che si dovranno privilegiare semplicemente i programmi una cultura istituzionale regionale e quindi vorrebbe creare un nucleo o esecutivo autorevole che abbia diciamo la correttezza istituzionale e che elimini una volta per tutte il retaggio o il cabotaggio clientelare di fronte ad una situazione del genere potrebbe essere giustificato d'altra parte vedo a dire che i tempi cominciano ad essere lunghi e quindi è necessario che anche nelle situazioni difficoltose un presidente all'altezza del compito deve adottare le decisioni che ritengo più opportune e più in sintonia con i programmi regionali anche perché Avvocato Grillo le romane che ha fatto hanno creato una polemica enorme tra l'altro non mi pare che ci siano personaggi quelli già nominati che siano che possiamo dire sono delle eccellenze sono persone normale che fanno il loro compito normale persone che lo sanno pure fare ma non sono persone eccellenti e questo di parte è un punto di vista un po' frettoloso cioè un giudizio un po' somario il problema è che se i quattro assessori che ha nominato sono sono diventati tre i tre assessori divenuti tre per via della vicenda del ministro Lanzetta sono provvisori è evidente che lui si riserva di adottare una decisione definitiva e che riterrà più adeguata e più appropriata alla problematica regionale in sede di nomina definitiva d'altra parte aspetta questa benedetta modifica statutaria per cui dovrebbe scegliere degli esterni invece che dei componenti del consiglio comunale e del consiglio regionale anche se io ritengo che gli esterni gli esterni lasciano un po' l'apprendistato quindi dovrebbero apprendere e poi secondo me i consiglieri regionali facenti parte della giunta danno una certa stabilità alla alla maggioranza perché altrimenti col passare del tempo si sprigionano gli interessi individuali che vanno contro una visione di insieme e di una maggioranza coesa e concorde sui problemi io la penso pure penso un'altra cosa che un interno nel rapporto col presidente è più ha più potere contrattuale se ha un'idea progettuale un esterno invece se deve scontrarsi col presidente su una cosa che non condivide il presidente gli dice o lo fai o te ne vai all'interno questo non lo può fare non è facile dare un giudizio da questo punto di vista evidentemente lui sta riflettendo seriamente per avere una squadra coesa e in sintonia anche con il consiglio regionale d'altra parte lui è l'arbitro e quindi lui dovrà decidere poi si valuterà o si apprezzerà il suo comportamento in funzione del procedere esecutivamente e programmaticamente speriamo che questo albetro fischi all'inizio della partita va bene passiamo al partito democratico che a crotone è assente è assente su tutte le grandi questioni che sono sviluppate in questi giorni le grandi polemiche su capocolonna ma anche sulle altre questioni non c'è stato non c'è stato una presa una sola presa di posizione da parte del partito democratico o a favore o contro qui abbiamo un sindaco che nei primi cinque anni ha fatto poco e niente in questi ultimi cinque anni avrebbe dovuto dare una svolta ma sotto il profilo politico si sta impegnando a continuare a non fare niente i consiglieri comunali invece di avere una visione unitaria sotto il mantello della cultura istituzionale in realtà coltivano posizioni individuali come per dire esci tu che entro io esci tu che fai posto a me posto a me i problemi fondamentali nel momento in cui non c'è un partito autorevole e serio che discuta un partito cioè che abbia uno scambio tra i componenti della giunta e del sindaco non riuscirà mai a risolvere i nodi problematici ma quello che è più grave è che questo partito e questa amministrazione lascia molto a desiderare anche sulla rutinaria e ordinaria amministrazione prima vengono le elezioni e meglio è d'altra parte io non so se il partito è in grado di trovare un nome che spezzi un rapporto con il passato e se sia in grado di formare una piattaforma programmatica che quantomeno avvii uno stato di avanzamento rispetto al passato d'altra parte ci si convoca costantemente l'assemblea del partito viene puntualmente rinviata dopo le elezioni non v'è stata nessuna discussione seria all'interno del partito ci si intriga esclusivamente per qualche rimpasto in giunta senza naturalmente dare le garanzie che i cittadini di fronte a questo stato di cose io credo che anche la cittadinanza e specialmente le elite societarie abbiano il dovere di prendere una posizione in maniera non dico di presentare una lista civica autonoma ma quantomeno assumono delle posizioni in modo tale da porre i partiti con le spalle al muro nel senso di invertire la marcia e invece di pensare al piccolo cabotaggio clientelare ad una piattaforma programmatica che abbia come mira la soluzione dei nodi più problematici la chiusura del nucleo igiene sanità e ambiente NISA di Crotone se confermata sarebbe un pessimo segnale e un indebolimento degli strumenti di lotta contro i reati in campo ambientale e sanitario e contro le eco-mafie lo afferma in una nota Ermete Realacci presidente della commissione ambiente territorio e lavori pubblici della camera che sulla vicenda ha presentato un'interrogazione in cui chiede al ministro della giustizia se intendo meno assicurare nuovamente l'operatività del NISA difesa della legalità per il territorio e l'ambiente e la salute dei cittadini della Calabria ieri seduta della nuova giunta regionale tra le altre cose approvati taglia dipartimenti dirigenti e società in house forbici della regione sui dipartimenti e sulle fondazioni e società in house tagli ieri la giunta regionale quello che cede alla giunta regionale quindi Mario Oliverio presidente e i tre assessori Cicconti Cuccione e De Gaetano hanno deciso di tagliare di tagliare società in house e di mettere mano anche alla riorganizzazione della struttura regionale sono stati aboliti 4 dipartimenti regionali su 14 non sottovalutate questo aspetto perché si pagano 4 dirigenti in meno c'è tutta l'organizzazione che incassamene tutti i soldi che vengono risparmiati dalla regione e quindi da noi cittadini si tratta di oltre 2 milioni di euro all'anno solo con questo taglio così quindi è stato fatto questo e su proposta di Oliverio sono stati dichiarati decaduti i presidenti di alcune società di fondazioni e altre società che sono di proprietà della regione Calabria decade quindi la Calabria etica non è più Roberto quello che ha fatto le assunzioni di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi ma viene messo mano anche alle Aterp quindi viene completamente stravolta la situazione ripeto con grandi benefici per l'economia regionale che risparmia risparmia soldi che possono essere destinati ai cittadini l'assessore alle politiche sociali del comune di Crotone Filippo Esposito comunica che l'autorità per le energie elettriche il gas e il sistema idrico ha definito alcune misure transitorie per la richiesta di bonus energia a seguito dell'introduzione del nuovo sistema ISEE l'assessore Esposito comunica inoltre che sul sito istituzionale del comune di Crotone www.comune.crotone.it è disponibile l'avviso pubblico dell'Inps relativo al progetto Onkel Premium destinato a dipendenti e pensionati pubblici per i loro congiunti conviventi per i loro familiari di primo grado non autosufficienti si è rinnovato ieri il consiglio direttivo del FIPE di Crotone la federazione italiana pubblici esercizi presidente la signora Emilia Noce consiglieri i signori Salice Francesco Lucanto Giuseppe Trocino Michele Chisari Roberto Morabito Rosario Doppido Vincenza Luca Rossella e Bernardis Piero Sanità Crotone diamo spazio all'ennesima denuncia di un cittadino è il caso di dire fino a quando il medico lo studia il malato se ne va il malato se ne va signor Laino Crotone ha problemi cardiaci e per questi problemi gli hanno prescritto di indossare l'alter per qualche giorno una settimana 24 ore 24 ore che è una macchinetta che registra il funzionamento del cuore la macchinetta l'ha messa il 20 di dicembre prima di Natale esatto si aspettava che il risultato dell'alter la lettura dell'alter avvenisse subito subito dopo 20 giorni mi hanno detto e lì mi hanno detto dopo 20 giorni io ci sono andato ha detto non è pronto è passato un mese sono andato non è pronto sono andato stamattina ancora ci vogliono e perché dice che ci vuole il cardiologo disponibile per leggerlo e non c'è il cardiologo ma siamo arrivati a questo stato io non lo so la gente deve morire io ho bisogno di sapere come è il mio stato di salute non è che mi possono rimanere per tre mesi per avere un risultato ma il 20 ma tra l'altro l'esame l'ha fatto l'esame l'ha fatto quindi si tratta di trovare qualche minuto per leggere l'opera e che ci vuole che ci vuole il problema è il personale perché questo purtroppo l'azienda sanitaria provinciale la regione Calabria taglia la sanità dei cittadini la taglia soprattutto la taglia soprattutto per quanto riguarda il personale cioè quando c'è da risparmiare si cacciano i medici e gli infermieri e si mantengono gli impiegati gli impiegati dietro gli uffici sono i clienti dei polizzi e questo è il motivo e questo è il motivo e quindi la gente muore insomma io cosa devo fare? lei deve morire perché questo l'hanno deciso l'hanno deciso perché lei non e se così me lo dicessero così chiamo almeno a Oliverio noi chiamo qualcuno c'è uno sbarco di migranti a bordo di un peschereccio a 200 metri dalla riva in zona Gabella venite subito questo è il tenore di una telefonata prevenuta ieri mattina alla sala operativa della capitaneria di Porto di Cretone intervenuta immediatamente in zona una motovedetta verificava in realtà la sola presenza di un piccolo peschereccio a poche centinaia di metri dalla costa ma nulla che lasciasse presagire ad uno sbarco di cittadini extracomunitari partiti dovuti controlli si scopriva che l'unità da pesca si trovava così vicino alla costa poiché intenta effettuare una battuta di pesca alla neonata di Sarda il cosiddetto bianchetto la forte risacca in zona il vento che continuava a soffiare molto forte non ha consentito ai militari di ispezionare a fondo in motopesta pertanto il comandante dell'unità veniva invitato a raggiungere il porto di Cretone per l'ultimazione dei controlli e per la consegna del prodotto ittico illecitamente pescato nonostante le intime azioni il comandante si rifiutava di seguire gli ordini impartiti e intraprendeva la navigazione corrotta verso il porto di Ciro Marina dal quale era partito alle prime ore dell'alba vista l'impossibilità di procedere con manovri di affiancamento in mare la motovedetta della Capitaneria di Porto aveva deciso di scortare il piccolo peschereccio direttamente nel porto di Ciro Marina giunti in banchina un'aliquota di personale militare dell'ufficio locale marittimo di Ciro Marina procedeva a ispezionare il motopesca i documenti della barca risultavano in regola ma a bordo veniva rinvenuta una rete non consentita dalla legge tra l'altro tra le maglie della stessa rinvenuti esemplari di neonata di sardina specie ittica tastativamente vietata dalla legge costituente illecito penale l'attrezzo da pesca veniva immediatamente sequestrato intraprese a carico del comandante del peschereccio peraltro già noto alle forze dell'ordine le dovute azioni di carattere penale riguardo al mancato rispetto dell'ordine impartito dalla motovedetta educazione alla legalità stamane la guardia di finanza ha incontrato gli studenti dell'istituto barlacchi di crotone qualche mese tra qualche settimana vi dico solamente che il ruolo ispettori prevede un corso di formazione di tre anni un titolo di laurea triennale però come vi dicevo lo mettiamo un attimo da parte questo concorso perché al momento non c'è quindi parleremo un po' in maniera stratta allora cerchiamo di essere più concreti e presentiamo il concorso ordinario cioè quello che lavora sul territorio e il ruolo economale in un paese dove si delinque sempre allora qualche iniziativa bisogna farla per cercare di correggere un cattivo comportamento ed è giusto partire dalla scuola la scuola educare i ragazzi alla legalità ed è questo l'obiettivo di questo incontro che stamattina la guardia di finanza di crotone il comandante della guardia di finanza di crotone il colonel Lamarmo sta avendo con i ragazzi del barlacchi si certamente ha detto molto bene noi ormai sono diversi anni che cerchiamo di incontrare i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado per presentare un nostro progetto frutto di un protocollo di intesa con il ministero dell'università e della ricerca e il nostro comando generale un progetto di educazione alla legalità ovviamente con specifico riferimento al campo economico finanziario che è quello che ci impegna quotidianamente ed è quello l'oggetto del delinquere di tutti dall'andrangheta il denaro la questione finanziaria sicuramente purtroppo i reati sono tanti la criminalità comune è spesso molto insidiosa ma come lei sottolineava sicuramente dietro a molte fattispecie di reato ci sono comunque moventi di carattere economico anche fatti di sangue spesso regolamenti di conti sono per questioni di spartizione di fette di mercato di per esempio legate al denaro esattamente colonnello ho visto che come ha finito la sua relazione i ragazzi l'hanno applaudito l'hanno ascoltato il religioso silenzio come suol dire e poi l'hanno applaudita evidentemente le cose che ha detto hanno interessato il pubblico giovanile di questa scuola sì ritengo di sì noi riscontriamo sempre una buona partecipazione una adesione interessata da parte dei ragazzi certamente in questo momento forse ancora di più interessata perché accanto al progetto sulla educazione alla legalità economica stiamo presentando anche i concorsi per l'arruolamento nel corpo come allievo ufficiale per cui è un'opportunità che credo possa essere di sicuro interesse per i ragazzi grazie colonna il più specialissimo per chi deve poi diventare pilota di aereo o comandante ed ora il pungiglione nei pressi delle scuole di via acqua buona crotone dove si buttano le gomme dei camion quando si camion davanti alle scuole siamo davanti all'istituto della ragioneria eccolo qua lo spettacolo che si presenta se qualcuno ha cambiato le gomme al proprio mezzo al proprio camion e dove è andata a smaltirle di solito in Italia nei paesi civili si smaltiscono nelle discariche nelle apposite discariche adesso le gomme vengono addirittura macinate e vengono utilizzate quello che viene fuori per fare le strade e a crotone invece si mettono davanti alla scuola a crotone si ragiona così magari per non pagare lo smaltimento magari sarà stato un gommista perché altrimenti un privato non riesce con i propri mezzi a cambiare una gomma sarà stato un gommista che per non pagare lo smaltimento ha deciso di fare questo regalo questo regalo ai ragazzi che frequentano le scuole di crotone qui ci sono tre scuole c'è il liceo scientifico c'è la ragioneria c'è il barlacchi l'istituto professionale e allora perché non fare un regalo a questi ragazzi stasera e domani sabato 7 febbraio alle 21.30 appuntamento da non perdere al teatro della Maruca in esclusivo Beppe Voltarelli con teatro canzone lamentarsi come ipotesi domani sabato 7 febbraio alle 22 al circolo Arci le 100 città di crotone sesto appuntamento con Shock in my town la rassegna cantatoriale targata Arci le 100 città con la direzione artistica di Michele Scerra questa settimana ospite Carmine Torchia con bene genesi di un album cantato e raccontato sempre domani sabato 7 febbraio a Strongoli al museo civico alle 18 si terrà la presentazione del libro Il ramo del melograno di Fausto Burdino incontro interculturale promosso dalla fondazione Mirrell Care gruppo egiziano di Cutro si terrà domani alle 20 presso l'hotel Chiterion ed ora il tempo previsto per domani su Crotone e Provincia si prospetta poco nuvoloso visibilità ottime vento di 14 nodi le temperature nella città Capoluogo oscilleranno tra i 10 e gli 8 gradi ed ora il bollettino nautico del Marrionio tempo vento da sud ovest forza 7 con locali rinforzi isolati temporali visibilità discreta localmente cattiva mare agitato tendenza vento da sud ovest forza 7 isolati temporali io ho terminato grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni grazie per la visione